Un indizio davvero interessante. Giusto, forse hai ragione. Visto che ci siamo fermati, raccolgo un mazzo di margherite per la mamma. Ritorno tra qualche minuto. Intanto noi raggiungiamo il camion delle strisce. Andiamo, zico-giago. Ho risparmiato i soldi della mia paghetta e ho messo da parte ben 18 dollari da versare sul mio libretto. Che bravo, 18 dollari. Sono parecchi soldi, Sandrino. Scommetto che la creatura delle scosse sta camminando qui vicino. Veloci, amici miei. Andiamo prima che le scosse comincino di nuovo. Perché questi orangotangi non ci fanno passare? Benvenuti nell'aranceto degli orangotangi, dove crescono le arance più succose e grandi. Gli starnuti del signore Chu stanno scuotendo i loro alberi. Adesso gli orangotangi dovete aiutare. Le arance prima che si spiaccichino dovete acchiappare. Dovrete muovervi veloci per prenderle di qua e di là.